. GF VIP, Cecilia Rodriguez beccata con il fratello di Monte, ecco la verità Wingsuiden. Cecilia Rodriguez e Stefano Monte beccati insieme, ecco svelato il mistero di questa strana vicenda. . L'argomento cancelletto Cecilia Rodriguez continua a tormentare il gossip. Tutti gli episodi che si sono verificati all'interno della casa del grande fratello VIP continuano a riecheggiare anche una volta che il reality è giunto al termine. . Cecilia Rodriguez, infatti, si è contraddistinta nel corso di questa esperienza per aver lasciato, dopo ben quattro anni di relazione, il suo fidanzato Francesco Monte, video virgola per iniziare una nuova relazione con un altro concorrente della casa, ovvero, il ciclista cancelletto Ignazio Muser. . Ciò che, però, ha maggiormente fatto infervorare il pubblico non è il fatto in sé, bensì le modalità con le quali è stata trattata tutta la vicenda. . A peccare di leggerezza in questa circostanza è stata non solo Cecilia, ma anche tutta la produzione del programma che ha mostrato poco riservo per la persona che era al di fuori. L'opinione pubblica su Cecilia Rodriguez. . Una volta terminata l'esperienza, la Rodriguez Jr. ha dovuto fare i conti con i giudizi del pubblico che, con tanta apprensione, ha seguito e commentato tutta la vicenda. . L'opinione che la maggior parte delle persone si sono fatti della ragazza non è certamente delle più losinghiere, video. Proprio per questa ragione, l'occhio vigile dei fan è sempre puntato su tutto ciò che fa la sorella di Belen. . Di recente, alcune foto hanno rivelato un qualcosa che sta destando molto scalpore. Cecilia è stata, infatti, pizzicata in compagnia del fratello dell'ex cancelletto Francesco Monte. . Subito dopo la pubblicazione online di tali scatti, il pubblico da casa ha iniziato a farsi numerose domande per cercare di capire cosa ci facessero insieme Cecilia e Stefano Monte quando la ragazza è attualmente felicemente fidanzata con Ignazio Moser. . I pettegolezzi hanno iniziato a farsi sempre più intensi ma alla fine la verità è venuta a gala e tutto è stato chiarito. Cecilia e Stefano Monte pizzicati insieme, ecco svelato il mistero. . . Innanzitutto cè da dire che i protagonisti erano intenti a festeggiare il compleanno di un amico in comune, inoltre pare che Stefano Monte sia a capo dell'agenzia Celebrity che rappresenta Cecilia, il fratello Geremia se anche lo stesso Francesco Monte, è questo il motivo per il quale i due sono stati fotografati insieme nel corso di una serata. . . Un dettaglio, però, non è sfuggito all'occhio del pubblico. Nelle foto non compare mai Ignazio Moser e neppure Francesco Monte entrambi amici del festeggiato. Per quale motivo? A Ignazio forse darà fastidio la presenza dei fratelli Monte?. .